I mondiali di palacanestro over, quelli Fimba, Maxi Basket, in corso di svolgimento a Montecatini, in Valdinievole e nelle zone limitrofe, sta arrivando alla fase finale. Sono in corso infatti gli scontri e eliminazione diretta che porteranno le varie rappresentative nazionali, maschili e femminili, alle finali del weekend. Ne abbiamo parlato con Mario Boni, nella doppia veste di organizzatore della rassegna iridata e giocatore degli azzurri over 50. insieme, tanto per fare qualche nome, a Flavio Carrera, Claudio Capone e Piero Montecchi con Cocci e Alberto Bucci in panchina. Per la cronaca, questa Italia ha strapazzato la Croazia ed è volata in semifinale. È stata una cosa straordinaria, sono commosso per come Montecatini ha risposto, come il territorio a Valdinievole, la Toscana intera, un grande successo, i giocatori sono contenti, ho poche parole da dire, solo un grazie per come io e i miei compagni di lavoro, di questa avventura, siamo riusciti a mettere in piedi questa manifestazione, in primis chiaramente il comune di Montecatini. E poi in questa fase finale c'è anche la tua nazionale, per ora è in semifinale. Sì, siamo in semifinale adesso, qualche piccolo acciacolo stasera, però al di là di questo i problemi personali, la squadra è forte, vogliamo rivincere il campionato del mondo dopo il 2013 e quindi domani ci aspetta una grande sfida contro gli Stati Uniti, 12.30 a Palavince, al vecchio palazzetto di Montecatini.